bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di monosport 07 siamo qui per analizzare la prestazione dell'eventus di ieri sera offerta contro il crotone prima di iniziare il video ci teniamo a dire una cosa molto molto importante ragazzi non è che sono sparito da youtube non è che sto con il copito non è che sto male semplicemente ho affrontato una settimana un po più impegnativa sia a livello scolastico che a livello extra scolastico ma quando io in una settimana pubblico meno video perché ormai vi ho abituato con due video al giorno non vuol dire che sparisco da youtube per sempre semplicemente è sparito una settimana e va bene ragazzi per quanto riguarda la partita di ieri sarà un video molto molto breve molto molto veloce usciranno comunque nonostante ciò anche le faggele risultando la giornata la mia reazione ai sedicesimi di finale cioè sedicesimi agli ottavi di finale quindi insomma ragazzi tranquilli che c'è tutti innanzitutto mi stupisce il fatto che la juve abbia vinto il 22 perché ogni volta che la juve gioca di 22 perde se poi ci mettiamo che 22 è anche il mio numero sfortunato tranne ieri ieri ho ricevuto una buona notizia stranamente perché ragazzi il 22 per chi ha visto le facche è sempre stato il mio numero sfortunato infatti ogni volta che pubblico un video il 22 c'ho la cagarella cerco di pubblicarmi quindi 22 quindi ieri sono riuscito a limitare i danni e meno male allora ragazzi la juve non esce dalla crisi perché testimonia che la juve in difficoltà ci sono c'è da dire che il fattore fortuna non è a favore di pirlo perché tu non puoi uscire dalla crisi vincendo col crotone ultimo in classifica esce dalla crisi se mi ribalto il risultato con il porto in maniera convincente esci dalla crisi se dopo aver vinto con crotone verona perché spero vinceremo anche col verona perché se volve non a non vinci vuol dire che poi già dire lo scudetto perché se oltre alle vittorie con verona perché se oltre alle vittorie con crotone verona e spezia ci abbini successivamente anche la vittoria con una squadra molto forte come la lazio se ci abbiniamo anche con la vittoria riusciamo a fare queste quattro vittorie consecutive che sono il punto fondamentale io fino alla partita con la lazio parlerò di queste quattro vittorie consecutive che ci diranno se la juve è da scudetto o no può darsi pure che di queste quattro partite la juve ne vince tre con la lazio pareggia e l'inter ne perde tre ok ok ma per me per me la juve non è da scudetto se non vince queste quattro partite di fila certo dove pure essere da scudetto se poi c'hai mezza squadra fuori lo scudetto non lo vinci perché sei sfigato se facessimo le partite tutte come ieri se facessimo le partite tutte come ieri dove comunque la juve è stata in difficoltà perché fino al gol di apertura di ronaldo era una juve in difficoltà una juve che dominava il gioco ma comunque arrivava un po come il gioco di sarri alla juve arrivava in aria non sapeva che fare ma perché giustamente giocando con kluisevski seconda punta con il suo ruolo con chiesa che uno che crea le azioni ma ronaldo non le finalizzava ronaldo ha finalizzato solo i cross ieri tra poco ne parliamo era una juve in difficoltà comunque una difficoltà anche in fase di difesa ma ora ci arriviamo un punto per volta ragazzi parliamo un attimo di ronaldo che i giornali mi dicono ronaldo salva la juve col crotone allora ieri morata è entrato da sub entrato di bala non c'era altri attaccanti non ne abbiamo perché la società ha detto che abbiamo una rosa competitiva quindi giustamente non ha operato sul mercato abbiamo una rosa più competitiva di quella dell'inter ragazzi oserei dire anche più di quella del real madrid che aveva 9 giocatori fuori e ieri anche con tutte le riserve ha vinto 1 a 0 con gol di casemiro abbiamo una rosa iper competitiva ragazzi tant'è vero che dobbiamo chiamare in cattedra dobbiamo far salire in cattedra bernardeschi fagioli fra botta dobbiamo mettere quattro giovani insieme con tutto rispetto per fra botta fagioli comunque sono dimostrati dei buoni giovani nonostante il mio preferito era portanova che prima è andato via ma vabbè ci sta a buttare nella mischia i giovani ma ieri pirlo non l'ha fatto non capisco perché fagioli per me ieri poteva partire isolare ha fatto entrato da sub entrato poi magari io pirlo è stato calciatore ne capisce più di me per me doveva subentrare fagioli ma io sono un tifoso da salotto un tifoso da casa pirlo che ha giocato a calcio sicuramente avrà avuto la sua motivazione me l'ha detto secondo me fagioli è meglio non farlo giocare e va bene però dire ronaldo salva la juve è normale se non le finalizzava ieri ronaldo le aziende ragazzi chi doveva finalizzarle ramsey perché quello che si avvicina di più un tre quarti di staramsey vuoi mettere che kluiseski non è proprio un attaccante vuoi mettere che chiesa ieri era un po quello che doveva correre a destra e sinistra per creare le azioni quindi non per finalizzarle e quindi doveva finalizzare forse ronaldo noi ieri abbiamo incentrato il nostro gioco su ronaldo e se ronaldo non mi faceva una doppietta col crotone con le pallone con le palle che gli hanno messo c'è anche da dire che ronaldo ha fatto due bellissimi gol comunque sono due bei gol di testa con dei difensori alquanto rivedibili che già ronaldo è una bestia di testa figure di seconda e non lo marcavano ma comunque se ne è mangiati altri due di gol ragazzi con i piedi ciò che ha segnato di testa erano quelle che non ha segnato con i piedi quindi che giornali mi scrivono ronaldo grande alieno salva la juve secondo voi se ieri al posto di ronaldo c'era un comune ivraimovic suarez levandoschi un comune levandoschi non si può sentire però un comune attaccante che ne so ma anche un allora l'attaccante del crotone di carmine non credo però anche che ne so un un milic un dzeko un immobile un lukaku un ibraimovic un rebic un leao quelle di due gol ieri me li facevano ronaldo ha avuto due occasioni a porta vuoto e se le pappate altre tre occasioni davanti il portiere che comunque sono occasioni dove al 40 per cento metti la palla dentro e le ha sbagliate ha segnato le due che ha avuto di testa e ci mancherebbe che non andrà a segnare quelle ragazzi se non segniamo a quelle staremo a parlare di ronaldo flop e gli davano tutti i quattro in pagella se invece se parliamo di ronaldo che fa doppietta ronaldo alieno 10 ha fatto 9 gol forse dire mi raga forse sono io che sbaglio per quanto riguarda fagioli invece parlando un po dei singoli anche se dei singoli bisogna più parlarne nelle pagelle fagioli l'ho vista veramente bene un centrocampista perfetto per lo stile di gioco di pirlo questo deve giocare un po di più secondo me anche perché numericamente a centrocampo si è messo un po male magari quando stai vincendo due a zero lo puoi mettere al settantesimo io spero veramente che gli venga dato più spazio perché finora ha giocato solamente due partite di cui una da subentrato insomma spero che venga dato più spazio a fagioli e allegri è da una vita che lo esalta mi sento ridere quando poi sento pirlo pirlo e santa i giovani pirlo mette 3.000 giovani fra botta portanova rafia wesley traguisin alla raga io vi dico come ieri era messo la juve in porta li teneva tutti e due disponibili grazie a dio i portieri almeno ci avevano disponibili in difesa abbiamo fuori bonucci e chiellini abbiamo quattro dimensioni centrali per tre ruoli di cui uno è draguisin di cui uno di questi è draguisin noi numericamente giochiamo con draguisin cioè io parlo numericamente parlo che la rosa deve avere in media 23 giocatori per me anzi 24 i tre portieri e dei dieci di movimento devono esserne 10 ritolari e 11 riserve per me quindi 24 giocatori noi per completare numericamente la rosa ci affidiamo da inizio stagione a fagioli portanova bernardeschi fra botta cioè tutti questi giovani insieme se ti chiami juventus anche no ragazzi e posso capire se i titolari erano ronaldino maradona e pelè ma noi giochiamo con alexandro titolare fra botta riserva ragazzi c'è veramente uno che non lo so a sto punto meglio fra botta poi boi boi e quindi insomma ragazzi quattro difensori centrali per tre ruoli ora fisso saranno demiral delict e danilo le 3d le 3d perché se non giocano loro chi gioca draguisin di pardo e chi cazzo guaglionicini guaglioni a centrocampo fuori arthur mckenny che non stava al meglio bentancur che non stava al meglio rabioti fidato infatti salterà la prossima ragazzi a centrocampo tutti fuori abbiamo murata in attacco che non sta al meglio kulusevski che non può giocare lì e dibala che sta fuori ragazzi più di questo sugli esterni abbiamo fuori quadrato e l'altro esterni che a parte chiesa non è che mi vanno in pazziglia altri esterni è bernardeschi mamma mia che esterno ragazzi bestia che sembrava essersi ripreso verso novembre dicembre poi è tornato il solito bernardeschi e va bene quindi insomma ragazzi per farvi capire è chiaro che più lo deve mettere i giovani ma così come è chiaro che non puoi uscire dalla crisi con i giovani cioè se tu esci dalla crisi devi sicuramente migliorare la qualità del palleggio la qualità del palleggio in fase offensiva perché siamo alla miglior difesa di serie A in Champions League comunque abbiamo subito pochi gol cinque gol in sette partite non sono così tanti ragazzi abbiamo subito cinque gol in sette partite due Barcellona, due Ferencvaros, sei gol in sette partite malissimo non è certo se non era per le puttanate di Bentancur erano anche quattro i gol invece di sei però insomma tanti mali in difesa non si hanno messi quanto in attacco quindi devi migliorare la qualità del palleggio perché in Europa quella la migliori e io dirò di più ora virtualmente siamo a meno cinque dall'Inter e meno uno dal Milan Conte dice eh per vincere lo Scudetto è una cosa incredibile ci stiamo attrezzando per i miracoli ma il miracolo non l'hai fatto te certo proponi un bel gioco e tutto Conte a me per quanto riguarda come mette i giocatori in campo mi è sempre piaciuto ma se non lo vince l'Inter chi vince lo Scudetto ragazzi? il Milan? il Milan gioca con Salem Eker ragazzi Salem Eker, Castiglieco cioè non è che sono tutti sti fenomeni C'ha la Noglu che è discontinua e Ben Nasser con tutto il rispetto ragazzi volete mettere il Milan con l'Inter l'Inter è una rosa strasuperiore ragazzi strasuperiore al Milan il Milan se io devo trovare una squadra che quest'anno ha fatto una cosa di straordinario quello è il Milan ha avuto uno spirito di squadra pazzesco Pioli li ha valorizzati uno a uno da Pioli a Kier passando per il leader indiscussi per Ainovic quindi insomma Calabria si è ritrovato Teo Hernandez ragazzi il Milan ha fatto qualcosa veramente di strato sperico migliorando qualitativamente tutto il gioco di squadra tutto l'Inter si sapeva che sarebbe dovuto andare così perché la Roma è una squadra che con le big non fa punti manco a dare un milione al giocatore se dite vinciamo con le big e dici ai giocatori vado a un milione la Lazio che all'inizio perdeva pure col Protona e il Napoli che ha fuori Mertens e Osimann e ne ha perso sette di fila un altro po' e la Juve che quest'anno è discontinua ragazzi se non lo vince l'Inter che Conte mi dice in conferenza stampa per vincere lo scudetto ci stiamo attrezzando per i miracoli ma sei malato in testa? sei seriamente malato in testa? quindi poi in Europa si vede quanto vali che pareggi 0-0 due volte con lo Shakhtar Donetsk pareggi con Bruce Mönchengladbach e perdi 2-2 con Real Madrid che aveva fuori pure la Madonna e Gesù quando ha giocato contro di te insomma toglietemi anche Lukaku all'Inter vedete che hai perduto pure col Protone capito? perché si esalta l'Inter? ma non è perché sei Juventino se per questo ho fatto complimenti al Napoli ho fatto i complimenti al Milan ma all'Inter sì faccio i complimenti non corongono un bel calcio ma per me nulla di straordinario per la rosa che hanno per la rosa che gli hanno messo a disposizione Marotta mi sembra il minimo per quanto riguarda Juve migliorare qualità di palleggio in Europa migliorare qualità di palleggio in Europa perché in Europa i giocatori ce li avevi te li sono stati fatti fuori un poco a poco hanno fatto fuori Artur hanno fatto fuori Chiellini poi e va bene McKennie non al 100% è un po' così però ragazzi migliorare qualità del palleggio in Europa non è questo 3-0 col Crotone che ci può uscire dalla crisi ma migliorare il palleggio in Europa perché non è una squadra ben delineata è una squadra comunque che gioca per scambiarsi ruoli in campo quando in fase di difesa devi giocare con Ramsey esterno sinistro e McKennie esterno destro e quindi insomma è un po' difficile quindi non puoi fare la cosa che ti diceva Allegri proprio no anche perché Allegri aveva giocatori con tipo di caratteristiche diverse a disposizione Allegri con Mandzukic e Kledira poteva proporre un calcio completamente diverso perché già quei due giocatori Allegri è un normalizzatore cioè tu vedi le squadre normalizzatore sembra un po' tanto perché Allegri è un vincente dalla madonna però lui prende i giocatori che ha a disposizione e li valorizza al massimo e per i giocatori che ha a disposizione Pirlo non sono certo quelli di Allegri ragazzi quindi migliorare la qualità del palleggio in Europa non puoi giocare male un po' come faceva Allegri questo è quello che penso io più scambi di prima perché giocatori con qualità ce li hai chi è se hai piedi buoni ce li ha stessa cosa magari Kulusevski stessa cosa sicuramente Cristiano Ronaldo quindi insomma stessa cosa Arthur con Arthur tu fai completamente un gioco diverso senza Arthur tu sei perso almeno per me basta vedere i risultati dalla Juve dalla Juve con Arthur e dalla Juve senza Arthur quindi insomma l'unico centrocampista buona che abbiamo quindi insomma forse anche McKennie meno male almeno gli acquisti st'estate li abbiamo azzeccati raga e va bene va bene detto questo ragazzi il video termina qui spero che il video vi sia piaciuto se ti è piaciuto invito a lasciare un mi piace se non è ancora fatto iscrivetevi al canale in descrizione il link per sicuramente su Instagram da Manosport07 è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi